Hanno bisogno di incarnarsi. Ho letto che mantenere in vita la popolazione degli orsi marsicani è molto difficile, perché questo animale tende a estinguersi sempre di più. La femmina partorisce solo ogni 3-4 anni, e solo 2-3 piccoli che spesso muoiono. Perché? Commento. Perché le entità che si reincarnavano nell'anima gruppo dell'orso marsicano adesso hanno bisogno di incarnarsi in forme animali più adeguate alla loro maggiore evoluzione.